buongiorno ragazzi allora 25 aprile e qui sono 30 gradi e forse anche ancora qualcosa di più ragazzi perché sta scottando veramente ha segnato 30 gradi fuori ma è che non trovo un un bar dove ci sia scritto esternamente i gradi la data i gradi ma sono 32 sicuramente in internet diceva 28 gradi non so se hanno già corretto 30 perché oggi segnava 26 gradi però avevano già aumentato 27 28 poi ok nelle prime ore del mattino quindi secondo me qua sono più di 30 gradi perché sta veramente scottato vedete se la gente al mare come l'altra volta come l'altra volta ci sarà qualcuno che anzi c'è già qualcuno in acqua la in fondo vedete e anche con le tavole bene e niente ragazzi io mi godo questa giornata di mare è già da aprile che la gente veniva in mare prendere un po di aria e comunque da vestiti ha iniziato ad abbronzarsi e niente praticamente la stagione iniziata adesso devono ancora sistemare hanno già pulito le spiagge per quello già due mesi fa che avevano iniziato a levare i pezzi di legni i tronchi portati dalle burasche adesso il mare insomma è tranquillo questa è un'altra spiaggia rispetto a quella che andavo prima e c'è una sabbietta grana non dico fine però insomma dai e va tutto bene almeno con il vento non si alza la sabbia e poi bere e mangiare tranquillamente ecco bene ragazzi vedete c'è gente è una giornata normale metà settimana sono sono i locali chi non lavora qualche pensionato come me che fa la vita da turista quindi mare mare il mattino poi una passeggiata pure oppure il oppure il andare in palestra quindi mare oggi mare palestra shopping l'abbiamo fatto ieri paka paka ragazzi